Vuoi prendere la patente in poco tempo senza rischiare di rimanere ancora a piedi? Oggi c'è Quizzando Patenti, l'unica app totalmente gratuita e senza pubblicità da utilizzare anche offline che ti permette di fare le simulazioni d'esame e di ricevere la correzione di un insegnante di scuola guida, evitandoti di commettere gli stessi errori all'esame. E nella sezione giochi potrai imparare mentre ti diverti a sfidare i tuoi amici. Cosa aspetti? Clicca qui sotto e scaricala subito gratuitamente!